2 miliardi e 600 milioni questa sarebbe la cifra inerente alle opere pubbliche bloccate nella sola città metropolitana di Napoli. A denunciarli i sindacati CGL, Cisle e Will che nelle loro sezioni edili si sono riuniti per annunciare le ragioni del maxi sciopero di categoria proclamato per il 15 marzo con relativa manifestazione a Roma. Sbloccare i cantieri chiedono con forza i sindacati per rilanciare il lavoro un netto sì, quindi alle opere pubbliche funzionali alla ripresa di un settore che sempre secondo le stime presentate avrebbe perso in 10 anni il 36% dei posti di lavoro pari a oltre 12 mila occupati ma ascoltiamo il segretario generale CGL Napoli Walter Schiavella. Solo nella città metropolitana di Napoli abbiamo più di 2 miliardi e mezzo di cantieri fermi, un potenziale di oltre 16 mila posti di lavoro e una boccata d'ossigeno non solo per le imprese ma per un territorio fondamentale per il mezzogiorno che ha bisogno di infrastrutture per continuare un percorso di crescita che oggi invece è bloccato. Per la Will Giovanni Sgambati, segretario generale Campania. Decine di imprese sono già fallite, tantissimi lavoratori sono senza ammortizzatori sociali e tante altre sono in grande difficoltà. Bisogna far ripartire questo comparto delle costruzioni e con le ragioni dello sciopero di venerdì prossimo nazionale unitario. Per la Campania un valore in più, la tanta disoccupazione può essere recuperata se ripartono le opere, se celermente si dia corso a farle ripartire. Il segretario CISL Napoli, Giampiero Tipaldi. La provincia di Napoli con i suoi edili unitariamente sarà a Roma venerdì 15 per accelerare lo sblocco delle opere pubbliche, sbloccare i tanti miliardi di euro che in questo territorio metropolitano sono fermi e per dare lavoro a tantissimi edili, alle loro famiglie e a tutto l'indotto che è veramente grande. Nella giornata di oggi invece corteo dei lavoratori della pulizia delle scuole e del decoro urbano.